allora oggi in questo nuovissimo video allora oggi vi farò vedere qua che c'è proprio un mondo indemoniato la nostra vanilla poi vi farò vedere qua praticamente c'è la netherrack a caso praticamente adesso qua noi abbiamo scavato ma qua era tutto chiuso c'è la netherrack con un portale al contrario ragazzi avete capito bene addirittura un portale al contrario vi l'abbiamo nessuno voi provate quella c'è pure blocchi a caso un igloo bugato video subito è il seed eccolo qua va bene eccolo le coordinate sono queste tipo 75 80 meno 418 mi raccomando ragazzi fatelo molto virale fatelo diventare molto virale questo video e niente beh ragazzi fatelo diventare virale perché è molto importante perché si deve anche segnalare ciao ragazzi chiudiamo